Stasera ho cercato di proporre una sintesi di un lavoro sulla lettura nei suoi rapporti con l'identità, quindi in un momento basilare che è quello del passaggio tra l'infanzia e l'adolescenza. Quanto libro considerato proprio come oggetto, io partengo in una generazione in cui ancora gli oggetti in generale e i libri avevano più potere in quanto avevano più durata, semplicemente, non erano né più brutti né più belli di quelli di oggi, sarebbero paragoni infondati e del tutto empirici. E quindi quando mi viene da parlare di lettura, di consigli di lettura, come in questa bella rassegna, mi viene sempre in mente il tema della durata, della capacità di… tante volte si dice non so che la letteratura è in crisi o la critica è in crisi, non ci sono vendi. Io credo che il problema centrale sia che le cose scritte hanno bisogno di un ciclo di vita più lungo di quello che oggi gli concediamo in una realtà dove magari uno scrittore mette quattro anni a scrivere un libro e il suo destino in libria si gioca in tre settimane. Addirittura oggi dicono che si capisce se un libro è andato bene o male dal primo weekend come i film. E questa è una cosa che è estranea alla lentezza che è costitutiva del mezzo della scrittura. E quindi ho cercato quattro momenti che vanno diciamo dagli undici ai quindici anni che passano attraverso il cereberio manuale delle giovani marmotte, un libro di divulgazione scientifica che questo ragazzino pesca nella libreria del nonno chi vive sulle stelle, un best seller degli anni trenta di pseudoscienza di un certo Desiderius Papp e arrivano poi a veri testi letterari, l'Hobbit di Tolkien e i romanzi di fantascienza di Philip Dick.